ciao ragazzi ben ritrovati sul canale come state spero vada tutto per il meglio pagelle post partita di milan empoli c'è da parlare di un po di cosette prima però vi chiedo di iscrivervi al canale ovviamente è gratuito di lasciare un mi piace e di condividerlo con i vostri amici scrivete anche nei commenti quelli che sono secondo voi voti di milan empoli io vi leggo senza problemi e ne possiamo parlare dunque bando alle ciance iniziamo subito megnan 6 di megnano pochissimo da dire praticamente mai chiamato in causa quindi il 6 glielo si dà perché era presente in campo per 90 minuti altrimenti sarebbe stata tranquillamente una partita da senza voto per il nostro buon mike in difesa partiamo da sinistra ternandez ha fatto una prestazione onesta da 6 né più né meno senza infamia senza lode un paio di scorribande delle sue però non è il teo hernandez che abbiamo visto ad esempio contro la roma non è il teo hernandez che abbiamo visto contro il napoli quello che manca a teo quest'anno è la costanza no questo costante andamento saliscendi no che ci fa spesso e volentieri cambiare anche opinione nei confronti di questo ragazzo però ieri partita da 6 nulla più nulla meno ciao ciao 5 e mezzo 5 e mezzo perché non fa una brutta partita non fa una brutta partita però commette un errore gravissimo gravissimo praticamente a ridosso della della fine della gara con un errato rilancio e con beresinski che recupera palla e per nostra fortuna non ne approfitta però insomma ciao ci ha abituato quest'anno a questo genere di errori e sono errori che vanno evitati perché altrimenti non si migliorerà mai altrimenti si continuerà a prendere gol da polli quindi ciao 5 e mezzo tomori invece a me è piaciuto moltissimo finché è rimasto in campo 6 e mezzo per me fic qualcosa di eccezionale è un ragazzo bravissimo sempre pronto quando viene chiamato in campo ieri secondo me finché rimane in campo lui il milan non rischia nulla niang non vede mezzo pallone non che niang sia un fenomeno è attenzione però tomori fa una gran partita da titolare dopo tanto tempo e questa cosa è una cosa molto positiva e quindi ottimo recupero di tomori bene anche la prestazione di ieri calabria io calabria ragazzi probabilmente sono prevenuto non lo so dei problemi con davide però io gli devo dare 5 non riesco a vedere calabria titolare nel milan e con la fascia da capitano addosso allora partiamo dal presupposto che si mangia un gol grosso come una casa su una palla perfetta di ocafor da sinistra cioè da solo di testa la manda chissà dove e già questo vabbè dietro poi balla il tango calabria balla il tango di cambiaghi cioè cambiaghi gli fa vedere tante mosse di ballo no calabria non ne capisce mezza no non può essere calabria il giocatore sul quale tutti i basi per la prossima stagione è lì in basso a destra non può assolutamente essere lui quindi calabria secondo me dei quattro dietro titolari 5 è il peggiore passiamo al centrocampo all'attacco poi vediamo i subentrati centrocampo ben naser 5 e mezzo non la migliore prova di isma che si dà in là l'azione del gol però non è il solito ben naser non è il ben naser preciso nei passaggi attento nelle letture soffre un pochettino il folto centrocampo dell'empoli anche se poi effettivamente il milan non è che faccia chissà quale grossa fatica a resistere ai colpi della formazione azzurra però la ben naser conoscendo il suo livello ti aspetti sempre quel qualcosina in più partita dai due volti invece di reinders secondo me un brutto primo tempo dove non mi è piaciuto l'ho detto anche in diretta e un secondo tempo migliore gli diamo un 6 a tigi soprattutto per la voglia che ci mette sempre questo ragazzo durante le partite un reinders che non è nel suo miglior momento di forma siamo tutti d'accordo tant'è che spesso e volentieri pioli lo sta facendo partire dalla panchina nelle ultime gare però però ti dà quel ritmo ti dà quella giocata ti dà quell'imprevedibilità che hai bisogno da un centrocampista quindi nonostante la prova non perfetta diamo un 6 a tigi passiamo alla tre quarti allora i due esterni pulisic e okafor do lo stesso voto lo dico prima degli altri sono i migliori in campo gli do 7 e mezzo fanno una gran partita okafor la a sinistra punta sterza crossa tira fa tutto giocatore molto forte a me piace purtroppo con leao fatica a vedere il campo ma quando gioca secondo me regala delle ottime prestazioni pulisic invece è in assoluto forse il miglior giocatore della stagione del milan non solo a livello realizzativo perché c'è giro che ha fatto più gol ma pulisic è in questo momento il giocatore determinante è quel giocatore che ti cambia le partite lo ha fatto a roma con la lazio perché la partita tra cambiata lui lo ha fatto ieri con l'empoli perché il gol decisivo lo fa lui lo ha fatto col sassuolo in casa in una partita bloccata sullo 0 a 0 il gollo fa lui è quel giocatore che ti toglie le castagne dal fuoco quindi entrambi 7 e mezzo bravissimi bisogna continuare così bene anche l'oftus chic 6 e mezzo per ruben un giocatore fisico un giocatore tecnico mi piace mi piace ruben cazzuto forte quei giocatori che ti trascinano la squadra e il milan aveva bisogno di un elemento così di un elemento come ruben ieri un po più in ombra nella fase di attacco si vede solo per una conclusione al limite dell'area ben parata da caprile però benissimo nel recupero palla duella con qualsiasi tipo di giocatore che gli passi di fianco e ripeto questa è una prerogativa fondamentale per un giocatore che vuole fare quel ruolo e che gioca in quella posizione di campo quindi 6 e mezzo a ruben chiudiamo con lukitos jovic purtroppo ieri non una bella partita di jovic 5 anche se per me peggiori in campo al momento rimane calabria jovic 5 perché tocca pochi palloni secondo me quei pochi che tocca li gestisce anche abbastanza bene però non può non può essere una prova sufficiente perché davanti alla porta o comunque in area di rigore non si vede mai non è mai pericoloso un attaccante deve fare gole quindi jovic non non può essere assolutamente sufficiente nella gara di ieri subentrati allora ciuquezze a me è piaciuto a me è piaciuto come entrato sbaglia qualche scelta però entra con voglia sfiora il gol del 2 a 0 al 92esimo deve ritrovare la condizione deve soprattutto ritrovare fiducia diamo fiducia ciuquezze diamo fiducia ciuquezze c'è un pulisic in quel momento in questo momento della stagione che lì davanti è difficile da togliere per oggi sono partite dove ciuquezze può giocare ieri con tutto il rispetto si poteva tranquillamente puntare liberato cacace si poteva puntare pezzella no non penso avrebbero creato troppi problemi a ciuquezze quindi ciuquezze diamo un 6 più per la partita fatta ieri calurusa e mezzo entra e mette una pezza all'errore di ciao di cui abbiamo parlato prima bello il ritorno di pierre sono tanto contento che sia finalmente a disposizione magari optiamo per spostarlo a destra da titolare no mettiamo lì a destra al posto di calabria e caluru magari ci risolve qualche problema in più poi ad lì senza voto perché è entrato tardi girù stesso identico discorso di jovic non ripeto la descrizione 5 anche oliviero e musa musa entrato molto bene mi è piaciuto 6 e mezzo foga grinta cattiveria recupero palla conclusioni a tutto questo ragazzo deve trovare il gol e deve trovare come ciuquezze fiducia nei propri mezzi ora ricarichiamo le pile si va a praga giovedì partita complicatissima testa e cuore per portare a casa i quarti di europa league noi ovviamente ci vediamo venerdì mattina con la telecronaca di milan slavia praga o meglio di slavia praga milan e con le pagelle io vi ringrazio per aver visto il video fino a qua mi raccomando se vi va iscrivetevi lasciate un like e un commento vi leggo ciao ragazzi alla prossima